Non basterà quello che abbiamo fatto con la Juve per ottenere un risultato contro l'Inter perché in questo momento l'Inter è superiore, è superiore a tutte, lo sta dimostrando con che facilità riesce a vincere le partite, con che qualità riesce a determinare le partite e quindi anche il miglior sassuolo potrebbe non bastare. Noi dobbiamo lavorare anche oggi e nella testa soprattutto per cercare di essere il miglior sassuolo che possiamo essere domani a San Siro, al tempo stesso sappiamo che potrebbe non bastare ma delle volte non siamo riusciti ad essere il miglior sassuolo, sabato ci siamo riusciti, mercoledì questo è l'obiettivo per cercare di vendere cara alla pelle e mettere in difficoltà un avversario che in questo momento sembra ingiocabile.